E' rivolto a chi si trova in difficoltà socio-economiche il nuovo ambulatorio solidale della Croce Rossa di Torre Maggiore. Visite mediche gratuite e farmaci da banco a disposizione, senza liste d'attesa o compensi da pagare. L'officina ha lo scopo di aiutare le persone bisognose e vulnerabili della popolazione, di qualsiasi nazionalità. L'officina serve per venire incontro sia a livello medico, sia a livello psicologico, sia di aiuto materiale. A breve verrà comunicato alla popolazione gli orari e i giorni in cui sarà aperto, probabilmente tre volte alla settimana a partire dal 20 di marzo. L'officina della salute, la prima in provincia di Foggia, la terza in Puglia, si trova nell'ex nosocomio, l'attuale ospedale di comunità, ad assistere i pazienti dal prossimo 20 marzo, medici volontari di varie discipline, pediatria, ginecologia, oncologia, pneumologia, tutto frutto della sinergia tra ASL-Foggia, amministrazione comunale e Croce Rossa.